Attimi di paura questa mattina nel cuore della città, in via Petrarca, uno schianto tra uno scooter e una bicicletta. L'incidente si è verificato poco dopo le 10. Sia il ciclista che la persona in sella allo scooter sono stati soccorsi dal personale del 118 sul posto con due ambulanze e un'automedica. Si tratta di un 57enne Aretino portato in codice giallo all'ospedale delle Scotte per un trauma cranico e di una 54enne, anche lei di Arezzo, portata al San Donato per alcune escoriazioni. La strada è stata anche temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Arezzo per i rilievi di legge.